Vi ringrazio la campana di Carabinieri per avermi accompagnato, è stato un grande onore il Presidente Giancarlo Motti che mi ha invitato e vi lascio con questo pezzo che è un pezzo napoletano, non soltanto innamorati, che sia un messaggio di pace e di conto dei naturi di Nasseria, per voi E ve la canterò da Pino e di conto dei sottotitoli che si chiuderemo in sottotitoli e di conto dei 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 sottotitoli Grazie.